eccoci qui e dopo aver battuto sui tanti muri ci dirigiamo verso Evopoli perché necessitiamo della nuova medaglia e di sfidare qualcuna casissimo ogni tanto Ponita! Più proprio poteva essere utile davanti però vediamo una Ponita in realtà essendo fuoco non gli facciamo niente con attacco d'ala con fuoco da maledetto non capisco le fattiche di questo amico qua Vabbè andiamo avanti così Lei è palese che abbia dei pokemon di tipo Terra roccia Palese che combatterà contro il mio Ciao! Qua quanta tirolese questa canzone c'è Che tiri? Che era mai l'ultimo eh? Lo guarda fiero eh? Lo guardo dall'alto Lo stica lavacciolo Quante ne hai? Non ho letto però eh Mashup Peccata Ecco Lo aspettavo Non ho visto chi c'era non importa va davanti Quanto fa? Ma si vediamo Ah gli facciamo giudicò un pistolacqua Che è speciale E' stabbato C'era il caso di Biduf C'era il caso di Biduf C'era il caso di Biduf La montagna Vai Anche questo è andato Anche questo è andato Prendo questo posso? Sì Prendiamo a meditarli? Devo che c'era qualcosa Quello è profumino quindi io farei una cosa tipo Ma sicuramente dovrebbe avere dei pokemon erbano C'era il caso di Biduf ma anche più veloce incredibile andiamo anche lei combattiamo vabbè combattiamo oh no abbiamo quello sbagliato mela ci farà male molto male beh ci guardiamo male la vicenda mi sembra giusto io la provo abbiamo sbagliato ho stato azione ho stato azione ma porca traia c'è un pezzo ciao pezzo ciao pezzo ciao pezzo ciao pezzo ciao pezzo ciao pezzo eh manda Pashirisu noi potremmo manda gli ehm cosa possiamo guardare lui è sempre quello più adatto allora è sempre più lento è sempre più lento è sempre più lento di nuovo è sempre è molto stronti è molto stronti io mi ma è mi ti ah ti ci Mordiamo, andiamo dritti con lui. Non ci importa, ci attaccherà che non puoi. Non può usare solo l'urgito questo trucco. Dai! Metterlo sul terro. Oh, guarda quanta esperienza! Bravissimo! Prozza! Non so come ho fatto. Che cazzo! Eh, per un cosa? Per una Pokéball? No! Per una Pokéball! Capito, andate là! Sfigliamo tutti perché è giusto. Perchè hai fatto questa cosa? Famo! Famo sulla terra, quindi è uno Pokémon di terra. Ok, facciamogli un po' di male con... Oh, attacco l'apica. Mi salvo l'Ev2. Ok. Riesciamolo. Riesciamolo. Guarda, aspetta. Bella. Oh, no! Della... Grande. Più esperienza, più esperienza. Che faceva? Vabbè, a posto di ruggito ci sta. No, no! Beh, questo è una dió... E ora… Oh no, però scusate di cambiare più davanti. Ah, povero. No, aveva vigore. Porca vera, aveva vigore. Lega tutto, no. Maledetto. Oddio, non è capito? Tanto che se non fa fiumare dopo, perché? Tonfa. E se va? Ma no, no, lei lotta, me lo sento. Lei la possiamo sconfiggere col volante. Sì, vabbè. Ma shop, ciao. Sì. 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 Dico io che dobbiamo mettere lui davanti Due volte la busca perché lo mettiamo dopo Un repellente che ora non ci serve perché non ci sono degli zubat Qui posso sicurarmi? Permesso Sì ti prego Ok Magari anche quel bambino va qualcosa a dirci So già come andrà a finire Se lascio di qua una popcorn e risale Va bene Troppo vuoto qui ci deve essere qualcosa Non c'è niente Perfetto Oh no mi ha visto Ma ora davanti c'è qui Ma ne usco perché lei avrà erba Che cura No roccia dai Geodude Peeblop Maledetta è anche lei Direi che Beccata Facciamo un pochino male No che fa No Bastardo Vabbè ma pistola con Fatti E non la vedo molto intelligente Brutto colpo Vabbè Visto Qual è il problema? Ficca fine a grido a 7 Vediamo con la raggia Con la raggia si potrebbe in realtà stare Che fa 65 Al posto di pistola acqua Sì sì Bravo caffè Bravo A buio quando si evolveva Vedo Cos'è questo? Bosco Ah non abbiamo taglio Lei non lo Io non mi sfida Perché non è Facciamo un salvataggio Come sta l'uovo? L'uovo si schiude? Devo sapere se l'uovo sta bene Sta per schiudersi Felicissimo Però in teoria Ora incontriamo la nostra amichetta Nel verbo Esatto Lei Che ci curerà Quindi io direi che spostiamo questo Io siamo nel bosco E dobbiamo far male agli insetti Ciao Sì Ti stai facendo da solo Va bene andiamo Va bene vai vai Tranquilla Vieni con me Grazie ti voglio bene Tu sei sempre stato uno dei miei personaggi preferiti Spero che fa la lotta in doppio Come sarà eh Jack e teenager No il buono Naomi Il buono Jack Allora Stare Casenzo Ovviamente Guarda E' importante Non mi dovevi fare male male Arrivano più di elettricità nel capo Dobbiamo far fuori i corpoli Prima possibile Oh no Non basta No Ah N'è un altro Che butta giù Quartagetta Ok Si dimentica Scintilla fa 65 Tu sei più forte in Attacco Quindi scordi Toroshock e impari Scintilla Così sottocarica Ti fa ancora più danno Fa Bravo Cos'è fa Prima azione Nimmer 65 Pisico Si Cos'è di Epoca d'Energy Tadam Tadam Maledetto No Allora, dobbiamo Sperare di colpire Siricon Ma te sei stronzo, facilito Ma di quelli pesi? Ma, dov'è? E' paralizzato, diminuisce la velocità, probabilmente, se non lo voglio Quindi è per questo che siamo leggermente più lenti di il sto Ok Si cambia Si mette Lui, non ci sta più simpatico Cioè, dovrebbe morire meno Preparerò? Ma ho usato prima, non usare... Ma... Abbiamo vendetta Dovremmo essere l'obiettivo Esatto No Sono... No, ma è ovviamente che è paralizzato Non può agire Cioè, quando mai Che è confuso ma colpisce comunque Su tutti Ovviamente su tutti Sperando di fargli male E' un bel colpo pass E' morto Andata So Andata Inarr fazer Se return Un procurato Quelle Ed Quessi Ad Gli cura da sola o ci devo parlare? Lei è una brava bambina Non so, oggi non l'avevo visti Mi hanno fatto favorissima L'animazione dovrebbero metterla direttamente dopo che ti parlano Non zoomare indietro Abra 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 Voi tu c'è scienza e basta, Demetra Oh vabbè, attacco d'ala ci può strapprestare E niente Ahia, c'ha 111 di vita quel scienze Pazzo E' un carro armato E' un carro armatissimo Eh con l'aiuto all'insetto molto particolare con la ferruzione vabbè direi un attacco d'ala assolutamente ci facciamo? ci possiamo fare? bello bello è morto a tempo mi ricordano che lo ricaricare dovrebbe evolvere lui è già confusa, non è più confusa ci picchia c'anzi guarda io ti voglio bene c'anzi ma per favore non farlo più che fai? ok con lui si attacco da nonna intanto fa qualche sbaggata particolare ok 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 sarà la zona giusta? la piglia giusta? invece una pokemon oddio come funzionava con i selvatici? c'erano doppie? non appaiono non appaiono metra cosa gli hai fatto ai selvatici? perché faremo questa lotta in doppia? con probabilmente avra eh dimmi chi è andata? psyduck e meditate mmm già meglio io direi di iniziare così abbiamo risolto uno dei problemi della nostra vita ah sì ma è infatti tagli male per favore grande questo è un lavoro di squadra questo a parte non abbiamo vabbè mmm meditate no c'è troppa luce lì c'è un oggetto ti levi devo vedere capire se... no non c'è niente magari è interessante ma ehm non ci sono non appaiono i doppi poco come che è teletrasportatrice così vai chi c'è? tutto il video quello si va a schiudere non si schiude arriva la signora maledetta si fortissimo dai dai ardagli poi se non sbaglio si dovrebbe tipo evolvere buddios con una felicità con una felicità il mashup che non mi ricordo per se tipo cioè due a 18 perchè non si evolve probabilmente il mashup un mashuppuso se lo vedo tipo al 20 perchè è stronzo o ancora più là perchè magari noi lo tiriamo in squadra per ora alberelli che non possiamo rompere uscita del bosco usco ciao vabbè pescatori ok quello è il punto dove nel trailer usa tutto sospetto questo qui ma non c'è neanche non c'è niente perchè mi fanno questi angolini? nel momento ehm se mitraglia ce l'avevo per per una ma però prima però buona mmm che bello le gare le faremo un altro giorno abbiamo il nostro scatallinatore e quest'altro si doveva sta per chiudere ma senza schiudere non voglia si sta per schiudere ma facciamo così alleniamo un po' il nostro amichetto non C'è un senso che si ne torna. vai e no Lucrezia non puoi giocare dai Macrossing per favore ma poco non ci gioco dovrei controllare facciamo una battaglia anche con te non buca niente oh cavolo Magikarp quando c'erano sei sono tutti Magikarp cazzatissima vai da Schantillo ok ok ecco 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 ... 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 Infinity Country Magical. Grande Caffeina. Così ti voglio. Domani mattina dovremo riuscire a devolverla, però la sua felicità si alta. Noi l'abbiamo avuta con noi finora, ha avuto esperienza, vogliamo farla combattere. Effettivamente contro questi Magical potevamo farla combattere. Oh beh, dove? Ok, questa di Magical potremmo riuscire. Magical. Andiamo vai, mettiamo lui. Andiamo. Sto facendo malissimo perché ho... Sto mettendo protetto, mi sto distruggendo perché c'ho la culpa. Continuiamo. Voglio credere in Voodoo. Voodoo è molto... Permettente. E poi siamo un po' a livello sopra. Ci sta per... no, invece. Potentissimo. Oh no, si continua. Ah, è lì sotto la barra. È anche molto piccola come barra. No, è lì sotto la 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 barra. Sì, per favore. Allora, secondo me la cosa migliore è... Qui cosa c'è? Chi c'è? I sotterranei. Capo. Exploro kit. Come hai fatto? Cattissimo. No, ti prego, non voglio ora. No, dobbiamo sconfiggere un capo palestra. Capone. Faccio tutto da solo. E' la piatta persona. Toffa, oh no, tu. Salve. Bella la mappa. Posso... Oh mio Dio. Facciamo una prova al volo, eh. Giusto per... Eh... Non penso di poterlo fare adesso. Ma si sta sfidando al volo. Attenzione. Bello. Posso mettere... Caratteri. Tipo... Non ci sono dei caratteri che pure voglio... Oddio, in realtà basterebbe mettere... Unicolo. Crecchio non esiste. Unicolo. Eh. Però no, ci sono dei caratteri che voglio io. Uffa. Aspetta. Ok. Se c'è... Quello... Ci deve essere anche... Esatto! Aspetta. Eh, dovevo cercare l'olazio? Non me lo ricordo. Perché era tipo questo, sì esatto, era questo. Sì, se non sbaglio era... all'1, giusto. Guarda, qui ci deve essere un cambio strategico. Non l'avevo chiuso, però. Lui è... Se aveva qualcuno... Su... Foxy lo organizzeremo un altro giorno. Salviamo. Andiamo in tutto l'ufficio, perché giustamente non ci ha dato... Non abbiamo la roba per scrivare. Maledetto. Pensavo toltene i piccoli, scava. Andiamo in tutto l'alentità. Ah, venghi. Ok. Qui dirà no, nessuno apre, perché è una persona orribile. Dov'è il proprietario? Il proprietario è stato attualmente rapito, sicuro. Lo sento. Era quello la problematica. Oh no, la bella Ciao Chissà che è Cosa mi hai dato? Però devo prima Doveva Prima devo battere il capopalestra Effettivamente, sì, tagliamo l'albero Bello Va bene Ripare lì E giro a pesca Allora, questa è la palestra Non dovremmo avere i propri problemi noi mettendo davanti Lui Vabbè, dai, dai Iniziamo Bella Bella Inutile, ma bella Cioè Questo cariamolo perché sennò non vedo dove vado Sono molto Tentato di fare molto a caso Ma non si può fare a caso Dovemmo trovare la tizia È lì Non l'avevo vista Scusami, signorina Ti pareva? Facchiamo Melody Melody Si continua Si continua Si continua No, papà, non piangere No, no Non è niente Che palle Te i due maschi Erano qua Uno, due In fondo T'ho visto T'ho visto Comunque sì Effettivamente hanno aumentato la velocità Della discesa della barra Bravo Bravo Tutto qua Non mi ricordo Se ne vuole troppo lontano Probabilmente Non mi ricordo Non ho rimembrante Sì, l'esperienza a noi Mi piace Mi piace Non mi ricordo Sì, l'esperienza a noi tipo un albero, questi altri alberi, esce una tizia, sono io che non c'è un cazzo puoi nascondere il fiore, ma non vedi proprio il fiore Gianna, un Tartwick, ma non è neanche un fiore Tartwick, ovvero, ovvero bambino non ha fatto niente di male e quindi procediamo con la forza gerata stiamo guadagnando un sacco di soldi e non li stiamo usando quattro fiori, oh no altra gente, sì, l'ho vista che è comparsa, non so ritardato c'era del giallo, ciao possiamo giocare, per favore perché me ne devo fare tutte? Amalia Roselia, bravo no, non è per altre cose questo Pokémon no, 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 no bravissimo, Roccio io non temo solo che sai com'è uno gli viene in latta alle ginocchia una certa che stasso qui è lupito se uno non si non sa contare, sbagliavo sbagliavo volevo salvare bataggio il volo e la affrontiamo tu guarda 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 carobey è fin qui doveva avere rossa e raid con l'evoluzione di questo no, rossa e raid potrebbe avere non mi ricordo Tartic Tartic mi sembra molto onesto grandi poco onrari che non ha nessuno ahia poteva morire ma non l'ho affatto questo potrebbe essere un problema maledetta oh no l'ora si ricura ok no lo rifà fa una bestia su Tartic posso averlo attivo oh attesto mi spiace però sai no poteva si però dici tu mi scido no paralizzante maledetto siamo lenti quasi no no la vacca se non lo cura no non ho detto niente non ho detto niente non mi farla ahia oh spescille costi paralizzalo vai eh tutti tutti saliamo tutti proprio il turbine non mi sembra il caso non mi piaceva no bravissimo no non esiste qui il tasto B in questo gioco per dire di no faccio qui si la facciamo dire questo devo aspettare perfetto ok lei è troppo felice ma veramente non non ho detto clic mi taglia a bosco da gardenia ok taglio ok 30 ferrovi che hai ricevuto con lo scambio che non ti discono perfetto tu mi hai dato bolli usati e la mt86 cos'era? accervoso mi piace accervoso potrebbe impararlo studio e mentre noi andiamo a fare imparare accervoso che ce ne sono parecchi quindi ve lo facciamo imparare ci salutiamo voi su youtube per la prossima parte dove probabilmente andremo nel covo del team galassia quello quello va dietro dove era tutto bloccato l'anima a l'anima a che c'è l'anima